Salvini può piacere o non piacere ma ha la connessione sentimentale con il popolo, il popolo lo ama, questo è un dato di pasto, poi si può ragionare se ha torto o ha ragione, mentre invece la parte opposta è odiata dal popolo, questo è il punto fondamentale. Il popolo chiama no, il popolo chiama no, il popolo non deve amare, ma non mi adombo, ma lo prego, non dica questo coso, guardi Macchiavelli nel principe, ma non si adombri, lasciamo stare al principe di Macchiavelli, ne parliamo un'altra volta, devo fermare tutto, fermate le macchine, abbassate i microfoni, dobbiamo andare via, grazie a...